Francesco Petrelli, new entry di questo appuntamento qui nella mista zona dei liberi e liberati grazie di essere con noi voglio ricordare il tuo blog Terni, polemica vuoi fare polemica oggi? direi non facciamo polemica dobbiamo raccogliere questi tre punti insperati per come abbiamo visto la partita una ternana schiacciata da parte del Pescara nel primo tempo nel secondo tempo in crescita forse un errore di Oddo di valutazione a sostituzione Benarì con Mazzotta dove la squadra si è fortemente indebolita dal centrocampo fino alla linea offensiva è uscito un gran gol forse c'era il ricorre precedentemente su Belloni e abbiamo portato a casa tre punti e la selvezza è più vicina bene, in poche parole abbiamo condensato un po' questa partita tra Ternone e Pescara vissuta qui oggi nel sabato prima di Pasqua a Libero Liberati un 1-0 grazie al gol di Busellato tra l'altro dobbiamo dire in quell'occasione anche provvidenziale il colpo di testa di Belloni che era da poco subentrato a Grossi in quella circostanza probabilmente un tocco di mano in difensore da rivedere perché ancora non abbiamo rivisto le immagini però va bene così perché sulla ribattuta c'è stato il gol di Busellato io nel mio pezzo a Lanza ho definito questa Ternona cinica perché in effetti è stata una Ternona abbastanza tendista per gran parte della partita forse il Pescara era legittimo che fosse così perché è la squadra tecnicamente superiore che probabilmente spera anche insomma di mantenersi nelle zone alte di agganciare quelle posizioni che contano il Pescara ha fatto la partita però effettivamente a fronte di un grandissimo Mazzoni che ha parato due o tre volte in maniera clamorosa ha saputo concretizzare poco quello che ha prodotto direi di sì Mazzoni in due partite sia da Avellino che oggi a Liberati è stata la Sara Cinesca è stato provvidenziale per la Ternana forse senza le sue parate staremmo a raccontare tutta un'altra partita la Ternana sì è stata cinica ha giocato di rimessa quasi tutta la partita Breta aveva impostato la gara proprio in questo modo ed è uscito un gran gol poi rivedremo le immagini sia sul rigore che poteva esserci su Belloni e sia sul rigore che sembra che forse era anche per il Pescara di Jans nel finale di ripresa una Ternana che raccoglie più di quello forse che si sperava a iniziocare anche per la partita che abbiamo visto però Oddo la classifica si accorcia perché la Ternana arriva a 43 punti i suoi sogni di playoff che all'inizio erano anche di secondo posto si allontanano e anche la sua panchina credo che inizi ad essere bollente scricchiola un po' la panchina di Oddo secondo te per chiudere chi è stato invece il migliore e il peggiore in campo? Il migliore in campo io darei a Busellato visto che è anche l'autore del gol e Mazzoni ovviamente che credo che non è il caso di ripetere sempre perché comunque è un portiere che dimostra la sua professionalità e comunque la sua grande capacità nel leggere anche delle partite dove la Ternana si trova in difficoltà per loro ripeto come dicevo iniziamente secondo me Benali è stato il migliore e forse proprio la sua uscita è pesata sul gioco della squadra di Oddo ringraziamo Francesco Petrelli alla prossima Federico Trastulli Ternana News allora Federico passiamo una buona Pasqua mi pare perché questa vittoria con il Pescara è la ciliegina sulla torta di una sorta di serenità insomma perché è vero che ancora non abbiamo raggiunto una quota salvezza ma insomma questi tre punti con il Pescara ci mettono in una posizione abbastanza tranquilla ma basta guardare la classifica secondo me perché se consideriamo che i playoff ormai con sette punti di distanza ovviamente non è neanche una cosa pensabile e quattro squadre in mezzo sono un obiettivo irraggiungibile allora il discorso parallelo con un'està intellettuale e senza scaramanzia bisognerebbe farlo per la salvezza perché ovviamente con otto punti di vantaggio sulla quinta ultima e diverse squadre in mezzo non dico che è fatta ma quasi sicuramente questa vittoria sul Pescara conclude una doppietta di successi inaspettati insperati e sicuramente tre punti che fanno piacere perché avvicinano ancora di più a questa salvezza che effettivamente è sempre più concreta e mai come prima dal ritorno in Serie B Dopo un periodo difficile anche criticato tutto sommato per una Ternana che non convinceva è arrivata la trasferta di Avellino e la brillante vittoria e poi questa vittoria di oggi che ha dei contorni un pochino diversi ancora perché è stata una Ternana io la definico abbastanza cinica perché diciamoci la verità non è che ci siano state grandi occasioni non è stata una partita brillantissima anzi soprattutto nel primo tempo abbastanza sotto ritmo però tutto sommato alla fine ha vinto la squadra più cinica Sì, sicuramente il Pescara in ogni caso mi sarebbe aspettato dagli abruzzesi probabilmente un po' più fuoco come me lo sarebbe aspettato magari dalla Ternana contro il Latina dopo un ritiro perché bisogna analizzare sempre i momenti e le situazioni ora la Ternana ha inguagliato sicuramente i biancazzurri vedremo cosa succederà anche con il tecnico Oddo sicuramente una Ternana cinica come hai detto tu un paio di conclusioni una verso la porta e un gol ma secondo me in quell'azione in particolare sul gol di Busellato si è anche veramente riequilibrato il karma dei rossoverdi perché poco prima sul proseguimento dell'azione Busellato ha segnato ma poco prima un rigore clamoroso negato alla Ternana per un fallo di mano evidente di un centrale del Pescara non ho mai commentato i rigori perché secondo me non ci sono mai stati episodi come dire eclatanti finora ma quello l'è stato diciamo che poi c'è stato invece al contempo possiamo dire un rigore reclamato dal Pescara nel finale per un ipotetico fallo di Janze su Cocco tu l'hai visto bene io ho visto la tratta di Cocco su Janze in realtà e lo stesso a Battista è palso anche abbastanza convinto della sua scelta non è stata una direzione piuttosto brillante ma secondo me non c'è da eliminare nulla lì mentre il rigore per la Ternana questa volta lo posso dire con certezza proprio imparziale era davvero solare grazie a Federico e un saluto agli amici di Ternanius grazie a voi buona Pasqua a tutti i nostri amici siamo con Augusto Austeri della Nazione allora Augusto possiamo tranquillamente dire che la Pasqua la passeremo in maniera più serena di come abbiamo passato altre festività perché qui questa è una vittoria importantissima contro il Pescara diciamole tutte Pasqua serena non siamo tutte le metafore possibili per la Ternana e Primavera magari per il Pescara è notte fonda anche se devo dire un po' di fortuna non guasta mai per noi abbiamo perso partite in modo maledetto stavolta veramente io credo che fortuna sì però anche ho visto una Ternana molto più serena rispetto a qualche settimana fa le vittorie fanno bene quella di Avellino secondo me ha fatto benissimo Ternana l'ho vista molto rilassata e concentrata non ha creato granché e il fatto di capitalizzare un'occasione al massimo è molto positivo quindi la salvezza matematica è una manciata di punti facciamo gli scongiuri però effettivamente il progetto di raggiungerla anticipatamente è a buon punto è stata una Ternana come tu dicevi meno spettacolare tante altre volte più concreta ha avuto un paio di occasioni una è stata brava a concretizzarla diciamo che ci ha messo anche del suo ancora una volta Mazzoni perché su quel trittico di occasioni nel primo tempo e l'altra nella ripresa sicuramente è stato bravo Mazzoni nel primo tempo ha ripetuto quello che ha fatto Avellino con gli interessi positivi secondo me a colpo sicuro dunque la prima vabbè un'imparata non dico normale però comunque impegnativa poi su ribattuta a colpo sicuro lui era lì si conferma un portiere affidabile portiere che era stato criticato all'inizio secondo me giustamente la prima partita con Livorno poi insomma solo quella poi credo che sia anche un po' un leader in certi momenti la scossa la satare anche ai compagni più giovani un grosso personaggio un bravissimo portiere secondo me senti il tuo migliore in campo è quello che non ti ha convinto ma guarda io Falletti a me mi ha abituato benissimo direi che Falletti oggi mi ha deluso però ovviamente si è mosso è un giocatore che ha avviato una carriera importante e gli mettono quei due o tre giocatori addosso non è più facile muoversi è vero è vero qualche cosina in più mi ha aspettato da grossi ha avuto una grossa chance oggi dall'inizio poi qualcosa di meglio da Coppola che c'è stato però un po' di confusione un po' troppo in affanno però sono calciatori che secondo me sono stati e saranno determinanti per la Ternano uno come Coppola non si discute e al di là del gol anche prima del gol valutando le potere di Capaggelle avrei dato un buon voto a Busellato che mi era sembrato a centrocampo un po' anche a tutto campo direi quello più positivo il gol avvalora ulteriormente la sua prestazione il suo voto Mazzoni beh l'abbiamo detto no? un occhio d'attenzione anche a Gonzales e Meccariello che secondo me sono andati bene e Jans e Zanon hanno spinto meno del solito però mi è piaciuta la loro applicazione tattica è vero che il Pescara aveva un sacco di assenze anche assenze importanti però è sempre è anche vero che lì davanti c'era un certo signor Lapadula che era il capocannoniere del campionato è stato del tutto neutralizzato ha avuto quella pallagolla che diciamo sulla ribattuta questi in panchina vanno pasquato nonostante le assenze ecco perché questa è una vittoria dal peso specifico io credo importantissimo perché non credo assolutamente che il Pescara sia morto andrà a togliere punti secondo me alle nostre dirette avversarie ma io continuo voglio sognare voglio dire che noi siamo quasi salvi ma secondo te Oddo ci può rimettere la panchina con questa sconfitta sentivo che c'era un po' di perché voglio dire a Tesser è andata è andata come è andata mi dispiace molto e ci dispiace tanto perché poi per Tesser noi nutriamo un affetto sincero grandissima stile Oddo meno nel senso che non abbiamo avuto rapporti non è un ex però ci può scappare secondo te è una sorpresa ma guarda vista la tensione che c'è stata qui anche nello spogliatoio mi dicono sembra una porta rotta spogliato il Pescara ho sentito anche qualche domanda dei colleghi pescaresi a Oddo un po' provocatoria anche allo stesso Breda hanno chiesto se le sostituzioni il cambio di modulo operato da Oddo non avesse in qualche modo per così dire avvantaggiato la Ternana questo mi fa capire che l'atmosfera per Oddo non sia delle migliori poi il calcio è questo la sostituzione di Benali o Benali dir si voglia risultata un po' curiosa anche per noi che guardavamo dalla parte Ternana sì sì poi magari finisce ecco no voglio ricordare che Oddo in effetti ha rilasciato l'intervista ai colleghi di Pescara che sono credo esclusivisti per quello che riguarda proprio il Pescara Calcio e poi non ha voluto parlare con nessun altro quindi non abbiamo potuto raccogliere le sue dichiarazioni quindi possiamo soltanto dirvi quello che abbiamo inteso dire ad altri colleghi qui prima di noi beh mi sembrano tutti indizi che possono fare una prova aspettiamo pensiamo a noi tanto alla fine risulta anche a me insomma mi è stato detto che negli spogliatoi del Pescara è successo un po' qualcosina sottolineerei per concludere Livia questa media punti di Breda che adesso inizia a essere è importante un allenatore che è arrivato in punta di piedi ha accettato un progetto a scatola chiusa secondo me è anche un muro di gomma come respingere critiche non si scalda mai anche a domande provocatorie però comunque io dico che i fatti sono quelli che contano i fatti guardiamo i numeri quante volte abbiamo detto bisogna guardare i numeri non ce ne importa niente se giochiamo i numeri parlano a favore di Breda indubbiamente meglio è così bene se comunque continuerà a vincere a traghettare questa ternana verso una salvezza tranquilla perché ormai non ci sono più le possibilità per fare altri sogni bene così io per il momento voglio ringraziare Augusto Osteri spero di riaverti presto ai nostri microfoni Augusto e buona Pasqua buona Pasqua a voi al vostro lavoro alla vostra emittente ciao calcioternano.it con noi il direttore Tommaso Ferrante buonasera e il presidente che è Alessandro Madolini buonasera ci possiamo permettere di avere un bel sorriso stringiamoci tutti perché ovviamente questa è una partita importante comincio con con Tommaso una partita importante perché con 43 punti diciamo che la situazione corsa alla salvezza è abbastanza più vicina è una bella giornata perché non solo era una bella giornata di sole ma la ternana è riuscita con un gol a capitalizzare al massimo questa gara per tanti altri motivi sì parto da una curiosità che è accaduta poco fa non voglio glissare naturalmente la tua domanda una cosa abbastanza strana il Modena ha suonerato Hernan Crespo in diretta televisiva è stato da Ibi che l'ha annunciato i microfoni di Sky capita abbastanza raramente non c'era ancora infatti la nota ufficiale sul portale del Modena era capitata una cosa abbastanza abbastanza simile in un Pescara-Crosseto del 2011-2012 ma in quel caso Giannini si dimise in diretta TV dopo una vittoria poi per quanto riguarda la partita credo che la ternana questa è stata una circostanza dove probabilmente non meritava di vincere ma tant'è ce la prendiamo molto volentieri ce la prendiamo molto volentieri perché oltre agli otto punti di vantaggio direi sul Modena possiamo affrontare questo finale di campionato con una tranquillità maggiore e questa è la prima volta apparentemente al momento in queste quattro stagioni che siamo in Serie B e questo sicuramente è un aspetto positivo non scordiamoci mai da dove eravamo partiti ovvero dalla quinta giornata di campionato che avevamo un punto in classifica adesso possiamo fare anche questi ragionamenti dove la stagione sembrava ampiamente compromessa e dove invece probabilmente l'arrivo del tecnico potrebbe essere criticabile quanto volete quanto vogliamo però i punti stanno a dimostrare che la sterzata c'è stata siamo costantemente ormai da tre quattro partite anzi anche più nella parte sinistra della gradatoria a parte purtroppo con la maledetta settimana dove probabilmente abbiamo perso le residue delle possibilità di potersi agganciare un ipotetico treno playoff però sono due vittorie pesantissime sulle mani di Mazzoni e sull'incrocio di Pusellato Allora Alessandro il clima nell'ambito pescarese era atroce perché effettivamente ad un certo punto non è stata più concessa nessuna intervista neanche da parte di Oddo che se n'è andato quindi non abbiamo avuto notizie di quello che è stato detto invece voi che eravate dall'altra parte nell'altra sala stampa quella riservata la carta stampata avete avuto il piacere di ascoltarlo che cosa vi ha detto? Sì Oddo era scurissimo in volto anche perché è la quinta sconfitta consecutiva dei suoi dei suoi ragazzi e niente molto molto scuro ha esaminato insomma la gara dicendo che il Pescara non meritava la sconfitta non è successo solo a Terri ma è successo anche in altre partite diceva un commento sulla formazione rosso-verde ha detto che secondo lui la squadra giocava per il pareggio ed è stata cinica queste sue parole e niente questo è stato il commento così un po' lapidario da parte dell'allenatore del Pescara non ha aggiunto altro Certo che se Busellato non avesse fatto gol in quell'azione ci sarebbe stato di recriminare perché c'era un fallo di mano adesso io non l'ho rivisto ma insomma sono tutti concordi nel dire che era grosso come una casa Sì neanche io abbiamo rivisto le immagini neanche noi però certo è stato bravo Busellato a insaccare quel pallone sarebbe un attimo da rivedere insomma le immagini se ci fosse o non ci fosse questo calcio di rigore lo rivedremo lo rivedremo tra l'altro invece c'era un episodio ovvero Tommaso nel finale che poteva costarci caro perché veramente c'è stato una sorta di svenimento mi sembra di Cocco in area meno male che li ha Battista Zanon è stato bravo a sottolinearlo perché si è soffermato su questi episodi appunto sostenendo che sia Cocco e Lavadula accentuavano un pochettino troppo le cadute è stato infatti bravo l'arbitro a Battista che personalmente a me non mi è dispiaciuto sempre presente e a parte qualche cioè purtroppo il discorso del rigore che non ci danno ormai lo sappiamo però dicevo comunque sia nel complesso a me il direttore di gara non mi è assolutamente dispiaciuto anche se qualche decisione magari a un certo punto si è un po' incartato soprattutto a metà del secondo tempo per quanto riguarda l'episodio Cocco non sta vivendo una stagione assolutamente positiva probabilmente ha buttato l'ultima ci ha provato in tutti i modi oggettivamente è stato veramente neutralizzato dalla coppia centrale rosso-verde che si sta confermando su altissimi livelli lo stesso Lapadula 18 redi all'attivo oggi veramente non l'ha vista quasi mai un dato curioso infatti è che la Dernara non subisce con le tre partite quindi è anche un sintomo che la difesa sta giocando bene soprattutto i due centrali di difesa che a parer mio insieme si trovano veramente bene a tutti e due chiedo il vostro migliore in campo e quello che invece non vi ha convinto da chi comincio Alessandro il migliore in campo secondo me Mazzoni che per la seconda partita consecutiva ha tirato fuori una prestazione incredibile facendo insomma tre parate consecutive sul tiro prima di Torreira Benali e poi la Padula quindi ha salvato per un'altra volta un'altra partita insomma il risultato come era successo lunedì scorso ad Avellino il peggiore in campo secondo me Coppola un po' fuori dai suoi standard qualitativi e quantitativi andava un po' in affanno era anche un po' troppo irruento secondo me in alcune circostanze in alcune insomma utilizziamo un termine reggistico placcaggi e quindi ecco per me sono questi questi due Tommaso Mazzoni sicuramente per il migliore in campo non siamo il peggiore in una sconfitta si può dire comunque Grossi secondo me è abbastanza opulso dalla manovra un po' anche poco evanescente cioè molto evanescente direi la sua prova anche Coppola ha sofferto il palleggio dei tre intermedi di centrocampo del Pescara probabilmente noi soffriamo lo sappiamo quando facciamo il due contro tre a centrocampo poi sono queste le conseguenze perché comunque sia Coppola che Bussellato corrono tantissimo e poi naturalmente ne risentono di lucidità dell'impostazione bene non so se c'è qualcos'altro da aggiungere gli auguri di Buona Pasqua sicuramente no? auguri a tutti Buona Pasqua sì auguri auguri a tutti Buona Pasqua ovviamente gli auguri da parte di tutto lo staff di On TV dagli amici di CalcioTernano.it che poi ovviamente fanno parte anche del nostro staff grazie a tutti voi per l'affetto con cui continuate a seguirci ovviamente che calcio vuoi questa settimana come per annunciato si prende una settimana di stop concedetecela perché è il giorno di Pasquetta e quindi ce la vogliamo un po' godere e ci rivediamo ovviamente la prossima settimana con tutti i nostri appuntamenti codificati grazie a tutti voi buona Pasqua buona Pasquetta arrivederci a tutti grazie a tutti